Musica Presentata la stagione del Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra, che partirà il 7 luglio e si concluderà il 6 agosto. Un ricco cartellone per valorizzare la tradizione di arte, cultura e bellezza del territorio, di cui Volterra è un tesoro prezioso. Così si è espresso il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Masseo, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Pegaso. La Toscana è terra di arte, terra di cultura, terra di bellezza e Volterra è una delle massime espressioni di tutto questo. E che tutta questa iniziativa si svolge esattamente in linea con quella che è la nostra idea di Toscana. Investire in cultura, investire nel teatro vuol dire investire in libertà. La stessa libertà con cui noi proviamo a raccontare anche la bellezza dei nostri territori. Sapere che un'iniziativa come questa, di grande qualità e all'interno di uno degli scenari più belli della Toscana, può davvero essere un punto di riferimento non solo per Volterra, non solo per la Toscana, ma un punto di riferimento a livello nazionale. Il consigliere regionale Diego Petrucci ha sottolineato come il Festival Internazionale di Volterra sia un esempio virtuoso per tutta la regione. Io penso che uno dei temi fondamentali dei prossimi anni, in generale, sarà il tema della rigenerazione. Saper rigenerare spazi, persone attraverso appunto processi virtuosi. Io penso che il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, fatto in un luogo suggestivo, strepitoso, vale la pena anche se fossero spettacoli pessimi, andarci comunque per respirare quell'aria. In realtà sono spettacoli bellissimi, vale quindi la pena due volte, ma è un processo di rigenerazione di un luogo fantastico che è il Teatro Romano di Volterra attraverso appunto il Teatro Romano, in questo caso Bruto, di Shakespeare e tante altre iniziative che verranno fatte in queste settimane, in queste state volterrane, in queste state toscane. Il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, ha ricordato come il Festival non sia soltanto teatro, ma coinvolga anche spazi importanti della città, dal Teatro Romano alla Pinacoteca Civica al Museo Guarnacci. Allora, ventunesima edizione del Festival Teatro Romano, un evento atteso appunto perché non è solo teatro, ma teatro, spettacolo, danza, musica, ma soprattutto sono luoghi particolari della città, che sono palcoscenici anche naturali come il Teatro Romano, ma anche il coinvolgimento della Pinacoteca Civica, ma anche il coinvolgimento del Museo Guarnacci. Quest'anno il palinzesto, chiamiamolo così, è nutrito molto anche di spettacoli di provenienza internazionale, dalla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. Avremo un po' mezza Europa che si raduna intorno a questo ventunesimo anno, dopo il successo dell'anno scorso della ventesima edizione. Troveremo ancora spettacoli italiani, ovviamente, con nomi importanti come Mita Medici, Alessandra Fallucchi, e in più avremo il nostro consueto appuntamento con i premi Ombra della Sera, che sarà un po' il clou, racchiuderà grandi artisti, grandi personaggi dello sport, della cultura, disegnati da questa statuetta etrusca in formato originale. Questo bronzetto è diventato un po' il simbolo della città e, diciamo, un Oscar del tutto volterrano, ma ben più intriso di simbologia e di pertinenza a chi andrà a riceverlo. Ormai anche lui compie 17 anni di storia. La Bielorussia è parte dell'Europa. Quello che sta accadendo è drammatico e non possiamo avoltarci dall'altra parte. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Masseo, ha aperto il convegno Belarus, oppressa ma viva, tenutosi a Palazzo Pegaso mercoledì 21 giugno. Un incontro che ribadisce i forti legami della nostra regione con l'aspirazione alla democrazia di un popolo, come quello bielorusso, che la richiede a gran voce. Al convegno erano presenti Giulia Iucno, rifugiata politica, e il presidente della Commissione Europa, Francesco Gazzetti. In questo ultimo periodo il Consiglio regionale della Toscana, e voglio ringraziare il presidente Masseo, così come tutta la Commissione politica europea e relazioni internazionali, ha aperto una pagina della propria attività che riguarda anche ciò che si muove e ciò che ruota attorno all'Europa. Quindi cerchiamo di occuparci ovviamente delle questioni di casa nostra, verrebbe da dire, però non rinunciamo a sollevare lo sguardo per cercare di capire i segnali che arrivano anche dagli altri territori. Questo credo sia un elemento importante che accresce gli elementi di conoscenza della nostra Commissione, del Consiglio tutto, e permette, lo abbiamo già visto, di osservare le dinamiche appunto extraeuropee con un'ottica e con maggiori competenze e attenzioni. Però credo che sia assolutamente necessario per una regione e un Consiglio come il nostro di avere queste informazioni per orientare anche le proprie valutazioni e eventualmente anche una produzione normativa e di atti che vada nell'interesse ovviamente generale, quindi in convegno sicuramente significativo. Giulia Iucno ha raccontato la sua storia e le valutazioni sulla situazione attuale del suo Paese. Molto importante per la Belarus e per la Belarus, come noi chiamiamo, il nostro Paese è per me stessa, per il nostro popolo e per tutti quanti che stanno scappando dalla Belarus ora e che cercano l'aiuto nei vari Paesi, anche in Italia. Io sono scappata due anni fa dal mio Paese, sono arrivata prima in Polonia, poi sono arrivata in Italia. Ad agosto l'anno scorso ho fatto la richiesta della protezione internazionale e a febbraio quest'anno ho ricevuto i documenti, allora ufficialmente sono rifugiata politica. Poi ho fondato qui un'associazione che si chiama Talaka, che si occuperà delle attività umanitarie, dei progetti culturali e anche delle attività politiche. Io sono rappresentante dell'ambasciata popolare bielorusso in Italia, che è un'ambasciata che si occuperà anche delle attività per i bielorussi che non possono andare in ambasciata ufficiale per certi motivi. Noi abbiamo sempre voluto dall'inizio della legislatura dare voce a chi ha meno voce. Oggi vogliamo essere a fianco del popolo bielorusso che in questi anni sta vivendo una pesante oppressione da parte del regime che ormai lo guida da 26 anni. La Bielorussia è parte dell'Europa e noi vogliamo costruire un'Europa più forte, un'Europa che sappia allargarsi, un'Europa che sappia dare a tutti più diritti, più opportunità. Quello che sta accadendo, specialmente dopo le elezioni del 2020, è qualcosa di profondamente drammatico e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Dobbiamo essere al fianco del popolo bielorusso che combatte per la libertà, che combatte per più diritti. Arrivata in aula, l'attività svolta dal garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi nel 2022. Prima la relazione, poi il dibattito dei gruppi consigliari. Un anno di lavori ancora segnato dalla pandemia, come spiega il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Così come intensa è stata l'attività del garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Nel corso del 2022 sono state confermate le adesioni da parte del garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo, collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali, con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Intensa l'attività del garante anche con riferimento all'attività, alla tutela dei minori relativamente all'attività di cyberbullismo, tutte attività che in vero il garante svolge da diversi anni, ma che nel 2022, nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista, sono state confermate e in parte anche implementate. Passa la maggioranza alla relazione che esprime apprestamento per il lavoro del garante. Contrario il gruppo di Forza Italia. Non si sono espressi Fratelli d'Italia e il gruppo misto. La Lega non ha partecipato al voto. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio. Si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri e i parametri dentro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Io ho fatto un richiamo alla concretezza un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare è inutile avere 500 garanti in regione toscana che sono solo poltrone e sono solo posti dobbiamo individuare su quali politiche puntare in primo luogo le politiche per la famiglia perché dal nucleo familiare qualunque esso sia io non ho nessun tipo di preclusione parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni e certamente ecco oggi più che mai dobbiamo avere ripeto ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Si rischia di avere quello che lo stesso garante parla un vuoto simulacro non possiamo permettercelo soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere consideriamo che sono dati abbastanza remoti perché dati recenti non li abbiamo ma intorno ecco prima che iniziassi il covid c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro non lavorano e neanche studiano quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza Italia Viva dalla maggioranza sottolinea la necessità di implementare gli strumenti a disposizione del garante Sono stato io in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani necessita di un impegno maggiore da parte del garante abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incesivo più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi e di quelle ragazze che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione Il rapporto tra Niccolò Paganini e la città di Livorno i suoi contatti con i musicisti labronici i soggiorni per le cure questo è il tema del libro Paganini e Livorno di Massimo Signorini presentato alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo con interventi dell'autore, del maestro di chitarra Michele Greci e del consigliere regionale Francesco Gazzetti Sono molto contento della presentazione di questo libro a Firenze in questo luogo così importante e significativo anche perché è la testimonianza di un lavoro di valorizzazione di personaggi, fatti e anche di una storia che è quella di una città di Livorno che nel corso dei secoli è stata al centro di tante vicende e soprattutto ha ospitato per le sue caratteristiche anche situazioni molto particolari che grazie al grande lavoro del maestro Signorini per quanto riguarda la vicenda del famosissimo Paganini emergono in questo libro e che testimoniano proprio anche questa natura internazionale della città di Livorno questo libro è un libro dedicato a Paganini ma permette anche di scoprire tanti aspetti della città di Livorno e se è possibile dire anche della regione toscana e dunque sono molto contento per tutte queste vicende per tutti questi particolari l'invito è a leggere questo libro perché scoprirete tante cose molto particolari che non voglio spoilerare ma che sicuramente desteranno grandi curiosità ed interessi Massimo Signorini dopo un lungo lavoro di ricerca ha catalogato la documentazione riguardante i soggiorni labronici di Paganini chiarendo molti punti rispetto a precedenti pubblicazioni realizzate senza supporto documentale il libro è una ricerca che nasce otto anni fa e questo libro permette di portare una luce di chiarezza tutti quelli che erano state le precedenti pubblicazioni addirittura di Tardo 800 in cui Livorno veniva chiamata in causa con l'autore Paganini però con un modo di dire per il sentito dire quindi in questo libro invece è una sorta di catalogazione di documentazione certa di quelle che sono state le accademie per violino per grande orchestra i vissuti di Paganini a Livorno quindi nei vari momenti nel 1805, nel 1810, 1818, 1827 ho avuto anche la fortuna di ritrovare delle locandine specifiche dove si possono leggere i programmi musicali un altro elemento importante è il libro fa fuoco su quello che è quel signore chiamato alla francese Monsieur Livron che a livello proprio internazionale sembra che sia stato colui che ha donato a Paganini il famoso violino Il Cannone che attualmente è custodito presso il Palazzo Tuzzi di Genova con questo libro ho focalizzato la figura di questo personaggio da personaggio fantascientifico quasi e di un risultato invece essere vero quindi ho trovato la data di nascita, di morte anche del suo collega Amelene e quindi si è fatto a luce su questa figura la presentazione è stata arricchita da intervalli musicali del maestro Greci con composizioni del tempo tra cui quelle per chitarra di Paganini questo progetto è nato sulla stima reciproca con il maestro Signorini e abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno illustrare anche agli ascoltatori le musiche del tempo a partire dal citato Ferdinando Carulli e Filippo Graniani che erano a Livorno in quel periodo per poi passare direttamente alle musiche per chitarra di Paganini tra cui l'Andantino variato che è un pezzo molto virtuosistico e i Gribizi che sono invece dei brani un pochino più leggeri e questo per appunto dare alle persone che ascoltavano la possibilità di entrare nel vivo della narrazione Grazie a tutti